ciao benvenuti sul canale di grazie botazzoli iscrivetevi al mio canale condividete questi tutorial cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti su mi piace lasciate un messaggio oggi faremo tutorial di questa maglia per donna questa maglia per donna una taglia 40 46 è un tot dama forma quadrata è stata creata con questa lavorazione molto bella il materiale che vi serve realizzare questo progetto e james sono gomitoli da 50 grammi e sono 160 metri io ho scelto di questo colore azzurro ma potete prendere di qualsiasi colore ci sono tanti variati colori l'ho preso dal sito google anomania.it qui c'è scritto che si possono utilizzare lucinetto e gli aghi e tre e mezzo noi andremo utilizzare un lucinetto del 4 come inizio andiamo a realizzare delle catenelle elastiche e le andremo a realizzarne 100 andiamo a realizzare 100 catenelle elastiche posizioniamo il filo su questo dito e su quest'altro e contiamo 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 questo filo lo posizioniamo dalla nostra parte e questo il filo del gomitolo inseriamo lucinetto tiriamo e andiamo a realizzare un nodino in questo mettiamo il filo sul lucinetto e entriamo entrambi punti mettiamo il filo sul lucinetto con lucinetto mettiamo il filo sul lucinetto e entriamo entrambi punti come potete vedere la catena andiamo avanti in questo modo andando realizzare 100 punti 100 catenelle elastiche abbiamo realizzato 100 catenelle elastiche adesso richiudiamo circa uno punto bassissimo questa è la parte dritta questa è una parte noi chiudiamo dalla parte del entriamo con l'ucinetto nella prima catenella prendiamo filo lo mettiamo il suo lucinetto e entriamo in entrambi così abbiamo chiuso con un punto bassissimo adesso dobbiamo suddividere le maniche con davanti e dentro noi andiamo ad eseguire questo maglioncino per una taglia 46 quindi ogni angolo andremo realizzare quattro punti alti il totale della circonferenza sono 100 catenelle 100 catenelle meno 4 perché 4 sono i quattro angoli che andremo a realizzare l'aumento 100 meno 4 sono 96 catenelle il totale 96 diviso 4 che sono i quattro angoli 96 diviso 4 24 punti alti noi adesso andremo realizzare quattro punti alti che l'angolo e 24 punti alti per tutti i quadri dati se vi serve per realizzare delle taglie minori per una taglia 40 42 ogni angolo andiamo andremo andremo realizzare un punto alto una catenella è un punto altro per tagli 46 44 46 che la nostra taglia per ogni angolo andrete realizzare due punti alti una catenella oppure andate realizzare come facciamo adesso quattro punti alti per ogni angolo per tagli maggiori 48 50 52 ogni angolo andate realizzare due punti alti due catenelle e due punti alti adesso noi andiamo a realizzare per una taglia 46 e ogni angolo andremo a fare quattro punti alti iniziamo realizziamo 3 catenelle che sarebbe il primo punto alto mettiamo il filo sul rucinetto entriamo nello stesso punto e andiamo a realizzare un punto alto mettiamo il filo sul rucinetto entriamo nello stesso punto e andiamo a realizzare il terzo punto mettiamo un filo sul rucinetto entriamo nello stesso punto e così abbiamo realizzato quattro punti alti andiamo avanti andiamo a realizzare 24 punti alti entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare un punto alto mettiamo il filo sul rucinetto entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare un punto alto e andiamo a realizzare un punto alto in ogni punto per 24 punti alti abbiamo fatto l'aumento cioè l'angolo abbiamo eseguito quattro punti alti siamo andati avanti abbiamo eseguito 24 punti alti adesso andiamo avanti facciamo l'angolo composto da 4 punti alti 24 punti alti l'angolo composto da 4 punti a di 24 punti alti 4 punti alti nell'angolo e 24 punti abbiamo terminato il giro e lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo adesso andiamo avanti in questo modo entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto basso rientriamo di nuovo nel punto basso e andiamo ad eseguire un secondo punto basso e questo è il primo punto alto mettiamo il filo sul cuginetto entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire un secondo punto alto mettiamo un filo sul ciletto entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire un terzo punto alto il filo sul ciletto entriamo nell'arco successivo e così abbiamo eseguito quattro punti alti adesso andiamo avanti in questo modo abbiamo fatto l'aumento adesso andiamo avanti in questo modo mettiamo il filo sul ciletto contiamo 123 entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto 2 catenelle e un punto alto entrando nello stesso punto mettiamo il filo sul ciletto contiamo 123 entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto 2 catenelle e un punto alto entrando nello stesso punto mettiamo il filo sul ciletto contiamo 123 entriamo del terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto 2 catenelle e un punto alto entrato nello stesso punto in questo modo abbiamo eseguito siamo entrati nel terzo punto abbiamo eseguito un punto alto 2 catenelle e un punto alto andiamo avanti così per tutto il giro abbiamo terminato il giro adesso andiamo chiudere con un punto bassissimo entriamo qui qui eseguiamo un punto passissimo entriamo nel punto successivo adesso ci troviamo in mezzo adesso ci sono due punti alti a sinistra ci sono due punti altri andiamo ad eseguire un punto basso entriamo di nuovo in mezzo vediamo ad eseguire un secondo punto basso che sarebbe il primo punto alto entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire tre punti alti per totale di quattro punti alti che sarebbe l'aumento mettiamo filo sul netto adesso ci troviamo qui dove abbiamo eseguito un punto alto 2 catenelle un punto alto entrando nello stesso punto entriamo da sotto nel primo punto alto prendiamo il filo usciamo e andiamo ad eseguire un punto alto al ritmo mettiamo il filo sul rucinetto e andiamo ad eseguire un punto alto 2 catenelle e un punto alto entrato nel stesso punto mettiamo il filo sul rucinetto mettiamo da dentro da sotto attraverso punto alto prendiamo un filo usciamo e andiamo ad eseguire un punto alto al rilievo in questo modo abbiamo eseguito un punto alto al rilievo entrando nel primo punto alto in mezzo un punto alto due catenelle e un punto alto poi siamo entrati da dentro in mezzo al punto alto e abbiamo fatto il punto alto al rilievo e la posizione risulta in questo modo andiamo avanti mettiamo il filo sul rucinetto entriamo qui nel primo punto alto e andiamo ad eseguire un punto alto al rilievo e andiamo ad eseguire un punto alto due catenelle e un punto alto entrato nello stesso arco mettiamo il filo sul rucinetto adesso con l'ucinetto entriamo in mezzo al rilievo e andiamo ad eseguire un punto alto al rilievo sopra al punto alto mettiamo il filo sul rilievo e entriamo sopra al punto alto e andiamo ad eseguire un punto alto al rilievo e entriamo in mezzo e andiamo ad eseguire un punto alto due catenelle e un punto alto entrando nello stesso punto nello stesso arco mettiamo il filo sul rilievo e entriamo sopra al punto alto e andiamo ad eseguire un punto alto al rilievo mettiamo il filo sul rilievo e entriamo da dentro e usciamo sopra al punto alto e andiamo ad eseguire due catenelle e un punto alto entrando nello stesso punto mettiamo il filo sul rilievo adesso entriamo da dentro e usciamo sopra al punto alto e Andiamo ad eseguire un punto alto a rilievo. Mettiamo il filo sul cucinetto, entriamo nel primo punto alto da dietro e andiamo ad eseguire un punto alto a rilievo. Entriamo in mezzo, nell'arco, e andiamo ad eseguire un punto alto, due catenelle e un punto alto, entrando nello stesso arco. Mettiamo il filo sul cucinetto, entriamo da dentro e andiamo ad eseguire un punto alto a rilievo sopra al punto alto, in questo modo. Come potete vedere si formano questi moduli. Andiamo avanti sempre in questo modo. Mettiamo il filo sul cucinetto, entriamo nel primo punto alto, nel traverso, e andiamo ad eseguire un punto alto a rilievo. Entriamo in mezzo, all'arco, un punto alto, due catenelle e un punto alto entrando nello stesso arco. Mettiamo, mettiamo il filo sul cucinetto, entriamo da sopra e usciamo da sotto, entriamo nel primo punto alto e andiamo ad eseguire un punto alto a rilievo. Punto alto a rilievo sopra il punto alto, entriamo nell'arco, un punto alto, due catenelle e un punto alto. Entriamo sopra, per attraverso, al punto alto che abbiamo fatto prima e andiamo ad eseguire il punto alto a rilievo, in questo modo. Andiamo avanti così per tutto giro, ogni angolo, in ogni angolo andiamo ad eseguire l'aumento che è composto da quattro punti alti entrando nello stesso punto. E la lavorazione procede sempre in questo modo, i punti sono sempre uguali, adesso vi faccio vedere ancora un pezzetto. Abbiamo chiuso con un punto bassissimo, entriamo nel punto successivo, ci troviamo in mezzo tra, a destra ci sono due punti alti, a sinistra ci sono due punti alti, dobbiamo fare l'aumento, ci troviamo nell'angolo, un punto basso, entriamo di nuovo nel mezzo del punto basso, un punto basso, e così abbiamo fatto il primo punto alto. Tre punti alti entrando nello stesso punto, per un totale di quattro punti alti. Mettiamo un filo sul rucinetto, entriamo in mezzo al primo punto alto, qui abbiamo fatto un punto alto, due catenelle, due punti alti, noi entriamo qui. E andiamo ad realizzare il punto alto a rilievo, entriamo nell'arco, un punto alto, due catenelle, e un punto alto entrando nello stesso punto. Mettiamo un filo sul rucinetto, entriamo nel primo punto alto, e andiamo ad eseguire il punto alto a rilievo, in questo modo. Vedete, man mano si formeranno i modelli. Mettiamo un filo sul rucinetto, entriamo nel punto alto, andiamo ad eseguire un punto alto a rilievo. Entriamo in mezzo, un punto alto, due catenelle, e un punto alto entrando nello stesso arco. Mettiamo un filo sul rucinetto, qui ci troviamo dove abbiamo fatto il punto alto, andiamo ad eseguire il punto alto a rilievo. Così, andiamo ad eseguire il punto alto a rilievo, entriamo nell'arco, un punto alto, due catenelle, e un punto alto entrando nello stesso arco. Un punto alto a rilievo, un punto alto a rilievo, sopra al volto alto, in questo modo. E andiamo avanti, sempre in questo modo. Ricordiamoci che, quando arriviamo all'angolo, dobbiamo fare i quattro punti alti, che è il nostro aumento. E questa è la lavorazione. E questa è la lavorazione che stiamo realizzando. Vedete, noi stiamo andando avanti. E andando avanti, la lavorazione esce in questo modo. Come potete vedere, questo è il punto alto a rilievo. Siamo entrati nell'archetto, un punto alto, due catenelle, un punto alto, e il punto alto a rilievo. Questa forma che rende, in questo modo, sono tutti i punti alti a rilievo, che andiamo a fare in parte. Arrivati in questo modo, fino sotto la scella, poi misurati bene la circonferenza del seno, perché in base alla circonferenza del seno, andiamo ad eseguire il catenelle. Questa lavorazione è un multiplo di quattro, cioè ogni modello è un multiplo di quattro. Quindi, per fare le catenelle, cioè le aumenti, dobbiamo fare quattro, otto, dodici, sedici. Io qua ho fatto sedici catenelle e ho congiunto la manica. Voi misurate bene la circonferenza del seno e poi dividete le catenelle a quattro, 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 otto, dodici, sedici, eccetera, eccetera. Ficché arrivati alla circonferenza desiderata. Adesso andiamo a fare l'altra parte della manica. Una l'ho già fatta e l'ho unita. La procedura della lavorazione è sempre la stessa. Noi qui adesso abbiamo fatto il punto alto a rilievo, togliamo il gancino e lo lasciamo dall'altra parte. Mettiamo il filo sul funzionetto e entriamo qui dove abbiamo fatto i quattro punti alti. Da adesso in poi non ci sono più aumenti. E andiamo a realizzare due punti alti. Sedici catenelle. Uniamo angolo con angolo e ci arriviamo dall'altra parte. Torniamo fermo. Mettiamo il filo sul funzionetto e entriamo in mezzo ai quattro punti alti e andiamo a realizzare due punti alti. E adesso continuiamo con la nostra lavorazione. Mettiamo il filo sul funzionetto, entriamo nel primo puntuato e andiamo ad eseguire un puntuato a rilievo. Entriamo nell'arco, un punto alto, due catenelle e un punto alto è entrato nello stesso punto, nello stesso arco. Mettiamo il filo sul funzionetto, sopra al punto alto andiamo ad eseguire un punto alto. Andiamo avanti sempre in questo modo. Andiamo avanti così. La stessa lavorazione le facciamo anche dove abbiamo fatto le catenelle. Andiamo avanti finché raggiungiamo la lunghezza desiderata. Il tutorial, questo è il primo tutorial. Il tutorial è così terminato. Ciao, al prossimo tutorial.